Dovrebbe svolgersi il secondo round di negoziati tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev. Non li prende sul serio nessuno? Prima del negoziato la Russia torna a bombardare in modo pesante l'Ucraina perché è anche questa una strategia? Non li prendono sul serio perché la situazione sul terreno è in stallo. I russi sono sicuramente in difficoltà, probabilmente non prevedevano una resistenza ucraina così forte e soprattutto dovendo evidentemente cercare di evitare una battaglia dentro i centri urbani, di finire dentro a una guerriglia, sono piuttosto prudenti sotto questo profilo. Quindi si affidano ai bombardamenti che non possono sbloccare più di tanto la situazione. Non ti aspetti molto dal negoziato? No, non mi aspetto molto anche perché finché la situazione non è in qualche modo indirizzata da una parte o dall'altra nessuno vuole cedere nulla. Non penso che in questo momento gli ucraini siano disposti a fare grandi concessioni.